amici buongiorno io sono in macchina in panda macchina non è mia sto aspettando una signora che io ho accompagnato in ospedale fare visite e già sto aspettando un'ora ospedale qui vicino io ho accompagnato sopra e sceso giù con questa macchina sua e dopo vado vado a piedi prendere e porto a casa oggi mio lavoro è questo pomeriggio vado da giada ieri ho fatto dolce e voglio prendere un pezzo per regalare a giada e mangiamo a merenda dolce venuto molto buono molto salutare molto sportivo molto sano proprio al massimo e mi è piaciuto tantissimo ingredienti tutti sani ieri dato un morso e ho capito che va bene questo questo dolce che ho fatto comunque ci vediamo dopo con la giada a presto buona giornata perché ci vediamo pomeriggio amici oggi vento da noi paldo ma tanto vento vado preparare pranzo eh sì mi piace questa strada perché molto ombrosa questa strada porta al mare con biciclette e con pedata quella a piedi si può andare immagine un po di immagine amici a dopo la torta riposa eccola frittata guardate che meraviglia amici dorata bollente calda ova 5 ova diluito un pochino con acqua appena appena e con cipolla rossa scusate cipolla rossa importante tanta cipolla rossa tanta tanta dato non tanto ha dato 5 cipolle quelle medie sì e patate quasi pronte sì ora butto via acqua da patate aprendo carciofi con gambo guardate quanto olio mamma mia questo olio oi 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 veloce 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 io non butto nel nel tubi perché tubi si possono intasare meglio così raccolta vedete raccolta di olio guardate quanto rimasto e in supermercato da noi ci sono quegli olio che si può buttare olio di frittura diversi oli buttiamoli amici oggi nostro pranzo è questo dai a me dai 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 un pochino così olio crudo sempre sempre oh basta frittata famosa frittata e mangiamo questi carciofi perché mangiamo questi famosi carciofi perché quando ci sono carciofi non ho voglia di mangiare quando non ci sono voglio mangiare questi qua questi qua mi piace questo gambo guardate come buono molto buono mi sembra ci sono nove carciofi e questo dolce molto buono dopo si assaggia anche pezzettino di dolci perché noi non non mangiamo dolce a colazione mangiamo dopo pranzo pezzettino dove mio cortello manca cortello amici patate con la buccia senza sale assolutamente mi piace così dolciastro guardate con cipolle rosse questa qua devo fare più spesso perché mi sono quasi dimenticata fare queste frittate ora vedete è viola così perché c'è cipolle rossa e mi piace tantissimo è proprio buona fredda buona abbiamo mangiato freddo perché fatto ieri sera per oggi a pranzo amici vedete quadro indietro quadro c'è questo famoso quadro però abbiamo appoggiato sul divano ancora non abbiamo messo sul chiodi perché si deve spostare divano pochino di qua e questo si deve mettere centrali si devono fare conti molto per bene perché ogni volta che si fa chiodo dopo per sempre temporaneo se vedete un po briglia così questo è plastica sopra ricoperto di plastica non è di vetro non è di vetro e briglia così perché dopo quando levo questa plastica vedete io ancora protegge da polvere il quadro mi piace tantissimo poi faccio vedere in altro video da vicino mi saluto il dolce è rimasto questo ora questi due pezzettini mangiamo dopo pranzo perché siamo già dopo pranzo guardate due belle fette io ho regalato a Giada una a Giada altra a sua mamma perché a Giada da diciamo portato a Giada ma a mamma volevo dare assaggiare ha assaggiato anche mamma di Giada e così è rimasto sulla fettina questa qua è mia questo mio pezzo forte io questo faccio sempre sempre farò molto spesso perché farina integrale top del top grassi non ci sono zuccheri non ci sono tanta frutta che che volete pretendere più di così non si può con questo vi saluto arrivederci nuovo panino che bello è venuto Giada nuovo panino nuova treccia si sbriciola guarda quanta roba caduta ti piace con crudo eh Giada con crudo va bene meglio crudo mi ha detto che mi ha detto una volta mi ha detto qualcuno dove ha sentito qualche video qualche trasmissione ha detto meglio meglio crudo che è cotto che prosciutto cotto ma è questo io già sapevo che prosciutto crudo entra nel nel prosciutto di qualità affettati di qualità vero Giada guardate che belli fiori qui rose primavera bellissima proprio bella anche di là ci sono tanti c'è anche acqua già da voi guarda già bevuto acqua acqua dopo voi che ti apro vai pronto servizio pronto ancora si beve acqua come buona acqua in estate vero Giada acqua non deve mai mancare bene ora mangia tranquillo dai che ce l'hai bello da osservare Giada una piantina bella piantina oggi Giada c'è la scarpe nove questi qua ma come si mettono belli comodi questi Giada sembra di sì dai a me bene qua ci siamo ci siamo amici ce l'ho anche come vedete qui eh ovo ovo eh come si chiama buccia di ovo eh buccia come si chiama ora non mi viene sminuzzata questi calcio c'è comunque questa come si chiama questa ora non mi viene questa buccia di ovo io diminuito sminuzzato e ora non metto qua perché qui già c'è in altri vasi mettiamo da parte ma ora voglio prendere guardate quanta quanta terra assorbita guardate un dito ma qui c'è manca già metà metà non c'è metà non c'è già assorbito già sento che vaso pesa pesante e ok eh questa piantina io lavoro sempre con forchetta perché non ce l'ho non ce l'ho altri attrezzi e non voglio avere qui una mettiamo qua e questa mettiamo qua qui 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 questa piantina mettiamo da questa parte sarà composizione e questa piccola che deve stare insieme mettiamo qui insieme mettiamo qui questa diventa grande e anche questa vediamo come sarà a dopo amici asparago poverino sofferto guardate come si è musciato questo giovane proprio mosso 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 guardate poverino ha avuto intervento chirurgico ho fatto vediamo come domani domani si deve alzare deve stare dritto 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 ora annaffio anche un po di sopra una volta annaffiato bene bene poi basta ok vediamo domani come sarà è luna piena amici vedete qui luna piena che emozione che emozione non si vede qui niente non mi è che luna cresce silenzio sono nuove qualcosa è luna piena amici Sì, c'è già chiesa. si vede qualcosa o no vai vai non ti disturbo video professionale non fa foto foto o video foto l'ho fatto luna piena porta fortuna